Salve a tutti. Anche il personale scolastico è stato interessato dal blocco alle progressioni di anzianità ai fini della progressione economica introdotto dal Decreto Legge 78-2010 e successivamente prorogato per l'anno 2013 dal DPR 122 del 2013. Questo ha determinato sostanzialmente, quantomeno per l'anno 2013 vedremo perché, un congelamento di quell'anno ai fini della progressione economica del personale in quanto proprio per consentire il conseguimento degli scatti stipendiali quell'annualità non viene considerata con inevitabili conseguenze sul ritardo nella maturazione del diritto allo scatto stipendiale e quindi al raggiungimento di una fascia economica superiore. Nel 2015 tuttavia era intervenuta la Corte Costituzionale dichiarando l'illegittimità costituzionale sopravvenuta della norma che prorogava il blocco stipendiale anche per il 2013, sostanzialmente rimuovendo questo ostacolo a partire dal luglio del 2015, data di pubblicazione in gazzetta ufficiale della sentenza stessa. Tuttavia non si è intervenuti né in via legislativa né in sede di contrattazione per rimuovere gli effetti di questo blocco che quindi si sono perpetrati nei confronti del personale che vede ancora oggi non riconosciuto né riconoscibile questo anno ai fini della maturazione dello scatto stipendiale. A questo punto ci si chiede cosa si può fare per ovviare a questi disagi. L'unica soluzione sarebbe in questo momento rivolgersi al giudice del lavoro per rivendicare il computo di questa annualità ai fini dell'ottenimento della fascia retributiva superiore che sicuramente consentirebbe di ottenere dei benefici in sede di liquidazione del trattamento pensionistico e ovviamente anche in sede di liquidazione del trattamento di buon'uscita. Ovviamente questa strada non è semplice, bisogna intraprendere un'azione giudiziaria ma vi sono già dei precedenti favorevoli al personale scolastico che lasciano ben sperare. Vi invito a seguire la tecnica della scuola tramite i suoi canali social, il sito e internet per restare costantemente aggiornati. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.